Un cordiale saluto a tutti da Francesco Amodeo. È importante porre l'attenzione su quanto sta accadendo in queste ore in Ohio, in America, dove 12 giorni fa è deragliato un treno merci. Nessuna vittima civile, ma 20 delle 50 carrozze che sono finite fuori dai binari, trasportavano sostanze chimiche molto pericolose, tra cui cloruro di vinile, causando quindi un vero e proprio disastro ambientale, dato che l'incendio ha rilasciato nubi tossiche di sostanze definite assai pericolose per la salute. Pensate che addirittura ce ne sono alcune che sono state usate come armi chimiche durante la Prima Guerra Mondiale. Stanno morendo centinaia e centinaia di animali, la gente comincia a stare male e ci sono rischi per la diossina e per l'inquinamento iddico in una zona che riguarda ben 30 milioni di americani. Eppure sono nate polemiche sulla gestione dell'informazione a copertura dell'evento. Pare che i giornalisti vengano allontanati in malo modo, i medi europei hanno quasi completamente glissato la notizia, eppure sono quegli stessi media che si sbracciano per dirci quanto inquini la nostra casa e quanto sia necessario sensibilizzare la popolazione per il bene del pianeta. E poi accade un vero disastro ambientale e le notizie vengono date a singhiozzo. Non c'è per esempio traccia di Greta Thunberg nella zona, evidentemente questa volta non bisogna far luce sui responsabili. Ricordate sempre che il vero nemico di questo pianeta siete voi, sempre e soltanto voi, con la vostra auto, con la vostra alimentazione che ancora non prevede gli insetti e con le vostre case inquinanti. Approfondimenti sul sito francescomodio.it. Un cordiale saluto a tutti.